Buongiorno a tutti dal campo del piccolo Colombo e siamo qui per intervistare il presidente della squadra avversaria dell'USD Magliana, Roberto Cavalli, tra l'altro candidato all'undicesimo... No, aspetta, sei confuso, dell'USD Tormaraccio. ESD Tormaraccio. Candidato? Candidato per l'undicesimo municinio, Roberto Cavalli. Buongiorno, mi auguro che la partita sia corretta e che non ci siano al di fuori della partita, che sia maschile, che sia, non ci siano problemi al di fuori del campo e che vinca il migliore, che posso dire? E che per la mia candidatura, che anche con l'undicesima, potreste votare con l'undicesima per la parte mia, che mi farebbe molto molto piacere, cosa impossibile però. Adesso un'altra domanda, lei all'inizio, innanzitutto salutiamo Bomber Mariani, Bomber Mariani, Bomber Mariani. Buongiorno, tutta forse Bomber Mariani. C'è prova, c'è prova, marcatura fissa di centri avanti avversari, chi è? Non c'è storia. Ritorniamo al presidente. Voglio parlare col portiere della squadra avversaria. Una cosa, una cosa, presidente, lei prima ha detto alla SD Magliana PC, perché ha detto questa frase? PC, perché qui ne vale tutto di quest'anno, di come va da quest'anno. Quindi praticamente se lo facciamo, tre fischioni e vi mandiamo a casa, voi procedete sicuramente. E c'è molta possibilità, poi se ne parla, c'è sarà un modo, ma il dottor Balletti ancora non è arrivato? Il dottor Balletti, come al solito, appuntamento alle 9.30, a 9.40, starà ancora a dormire e arrivare a riservizio. Poi metteremo in campo anche il signor Manetta e valuteremo il da farsi. D'accordo, adesso noi ci andiamo a preparare la partita. In bocca al lupo. E vinca il migliore. E bolletti il dolore? Bolletti allenatore, 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 bolletti allenatore. La sorpresa, no? Bolletti allenatore. Ok.